salve a tutti ragazzi bevendo in questo nuovo episodio di sonic di gioco 2 finalmente riprendo la serie perché ultimamente sto veramente cioè sentite la tosse ultimamente no non sto molto in forma eh vabbè ora mi sento un po più meglio rispetto alle altre volte altro qua ok dai sto che joypad era andata invece no noi continuiamo stasera perché hai dovuto continuare la serie un poi l'anticipo questa mini serie natalissima eh questo cacchio di tosse e raffreddore mi ha fermato un po ok 50 anelli chissà che non li conosco i checkpoint più o meno non li conosco i checkpoint di rosola chemical plant atto uno eh non so nemmeno dove sono i checkpoint sinceramente se ce n'è uno qua su no ok un'altra vita abbiamo ottenuto più grande andiamo da lì ovviamente non ho perduto un anello mi spiace ma non sapevo dove trovarli sinceramente c'è il checkpoint di ok chemical plant ha prodotto due già siamo a due minuti di video se questo ci può pure stare dai magari e pedo gli anelli grande mi sopra c'è una vita ok non so dove più o meno conosco più i checkpoint di chemical plant atto due dove si trovano di preciso rispetto a quella dell'atto uno eh ok 5 manelli ok ok 5 manelli ok andiamo solo a trovare a vedere dove si trovano il checkpoint senza ok meno male che non abbiamo subito danno perché potremmo pure dire addio allo spiega allo spiega seggio ok con la checkpoint sperando bene che sperando che non faccia nessuna cagata che nel primo episodio già avevo fatto alcune cagate colossali negli special sage e nei livelli pound dai ok ok la prima fase di quest'altro level of bones che io li chiamerei level of bones ok dai pensavo di peggio ma sta andando bene saltiamo qua mannaggia meno male che ho saltato in tempo e quelle trappolozze che ti fregano qua e ho mancato gli anelli qua facciamo cagare pure anche nel secondo episodio scampata bella dai 140 anelli giusto giusto mannaggia devo raccogliere le altre forse ok o qua penso che è la fegatura e vaffanculo dai non ci credo e ricominciamo con questi scleriii pure nel secondo episodio dai perchè ho mancato gli anelli nella seconda fase del del livello bonus ma no ma ci casco tempi ma se o se testa da cascarci sempre ecbo è cappone è ha cosa cosa c'è 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 ok dai io per poco non veniva colpito ne mancavano solo di ma come faccio avrei dovuto prendere anche gli anelli nella fase precedente del livello boss non so come fare come evitare che se venga colpito disgraziatamente ok che non ho parola sono poche parole ci assalta c'è ancora ma che porca puttana però che fa più scarpe sonic 2 che sonic 1 e figuriamoci quando un giorno inizierò la sella quello inizierò il gioco 2 proprio le parolacce che farò dire a sonic con lo quel dai 21 poi sempre per meno male dai però avrei dovuto raccogliere l'anelli nella fase precedente vanno credo che non c'è il salva e carica partita eh già nel sonic 10 gioco 3 penso che c'è già il salva e carica partita eh penso che probabilmente credo che un giorno potrei anche fare una serie di stessi sonic mania dai per quattro anelli non ho ottenuto lo smelato cioè se questa non è sfigata cos'è cioè per quattro anelli non ho ottenuto lo smelato del caos più serio e manco gli anelli cioè per schivare le per schivare le fottutissime bombe ok ok dai praticamente dovevo prendere i tempi giusti per saltare saltare e schivare bombe e prendere gli anelli ora che qua lo stesso non prendo lo smelato del caos che due palle quasi che continua così mi sa che tra anche rimandare al terzo episodio l'ottenimento degli altri smelati del caos e manco gli anelli meno male per una dai cioè ma questa già ditemi se questo non è sfigata cioè per un anello della minchia non l'ho l'ottenuto eh c'ho pure coglionate ma io ho saltato ok scusatemi per il ritardo mentale l'intensi ok 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 ce la facciamo è un fottuto anello devo prolungare l'episodio po' cazzo dai che ce l'ho fatta dai mamma mia cioè ma quanto devo sviluppare per ottenere gli smelati del caos su sony di a gioco 2 ah mi sa che ne manca solo uno credo eh poi non so poi potremmo accedere alla grande figata chiamata super sonic che super sonic è stato proprio interpretato proprio in sonic di a gioco 2 cioè la prima interpretazione di super sonic che raccomandiamo la lente così non schiattiamo come dei poveri cristi o magari fino avanti potrebbe esserci un altro checkpoint meno male che non so caduto deve essere caduto come un coglione grande tanto non so come fa a essere ancora vivo nonostante nonostante muore come un cretino ok da poco arriveremo anche alla boss fight e poterò anche chiudere qui meno male che non sono morto che cacchio si è pagato Tense non mi è mai successo ragazzi si è bugato tail ovviamente facevo le run in off non mi era mai insieme la prima volta che mi si bug tail boh e cate come un coglione di nuovo ok più in avanti c'è un altro cerco acqua e state attenti qua che è un trappolozzo ok contro il dottor robot save nel caso del pedo ok è uscito un episodio vabbè leggermente cotto rispetto all'altro e te si muore come un coglione di nuovo e te fa una poi vai dammi una mano no meno male che non sono caduto mamma mia ok sta un po' sfetto però è anche abbastanza facile e ok ragazzi credo che vorrei anche terminare qui anche questo secondo episodio di episodio di a gioco 2 ricordo al vostro come adesso è tutto e ci becchiamo vabbè adesso episodio Sonic di a gioco 2 che facciamo l'acqua di crono atto 1 e 2 quindi alla prossima